L'invito che ci viene riferito dal libro del profeta Esaia, il capitolo 35esimo, Coraggio, non temete, riecheggia con profonda fiducia dentro al cuore dell'uomo, dell'uomo di ogni tempo, dell'uomo che ha il cuore smarrito, dell'uomo che è alla ricerca di un senso e di un significato da dare alla propria vita. È l'invito a non avere mai paura, ma a lasciarsi continuamente trasformare, lasciarsi continuamente stupire dall'amore di Dio. È l'invito a non ripiegarsi mai su se stessi nel proprio smarrimento, ma al contrario riuscire a spalancare il proprio orecchio a un suono nuovo, a parole nuove, parole di sfiducia e di speranza. E di queste parole diventarne annunciatori, con la propria voce, ma soprattutto con la voce dei propri gesti, delle proprie relazioni, del proprio stile di vita. Credo che sia questo che traspare dal brano evangelico di Marco, un gesto di guarigione che Gesù compie. È interessante però vedere come questo gesto di guarigione, e la guarigione è sempre una liberazione dal proprio limite, dal proprio smarrimento, è sempre qualcosa di bello, che riveste la vita di speranza e di fiducia. Questo gesto è in un certo qual modo sollecitato dalle persone, dalla gente. Portano a Gesù un sordo muto e lo pregano di imporgli la mano. Non è il singolo che sente parlare di Gesù di Nazareth e in certo qual modo vuole attirare la sua attenzione. No. È un insieme di persone che hanno a cuore la vita, la situazione di questa persona. E questo credo che sia estremamente bello. Una comunità che si prende a cuore l'uno dell'altro. Una comunità che si fa carico del peso dell'altro. Una comunità che insieme desidera il bene dell'altro. Questo credo che sia molto importante adesso, in questo tempo, nel quale questo termine comunità è, secondo me, molto inflazionato. Tutto è comunità, in realtà poi è il nulla. È una comunità, la comunità esiste quando davvero abbiamo delle relazioni, abbiamo delle motivazioni forti che ci uniscono, che ci legano. Altrimenti rischia di essere qualcosa di vuoto, descritto sulla carta, ma che non ha alcuna incidenza né nella realtà e tantomeno all'interno delle persone. È il vuoto. E questa comunità si prende cura di quest'uomo. E Gesù, nel silenzio, lo prese in disparte, lontano dalla folla, compie questo gesto che ridà vita a quest'uomo. Gli dà la capacità di poter udire suoni insperati, sconosciuti, sconosciuti e allo stesso tempo di poter far riecheggiare questi suoni. Lui che ha tutto questo gli era proibito, non era per lui possibile. Adesso può udire, può parlare e rientrare all'interno di una sfera, di un mondo nuovo, di una meraviglia nuova. E questo credo che sia davvero, ecco, la vita che il discepolo è chiamato a sperimentare quotidianamente. All'interno del proprio smarrimento ritrovare una parola che puoi udire, può scendere nel cuore questa parola, la puoi ridire. Ecco, è il cammino, credo, della testimonianza della Chiesa. Essere uditori di una parola che si traduce poi in una credibile, lieta, libera testimonianza di vita. Davvero, ha fatto bene ogni cosa. Pieni di stupore sono i discepoli, è l'uditorio, è pieno di stupore a ciascuno di noi. E ogni uomo e ogni donna, quando fa questo straordinario, stupefacente e meraviglioso incontro con l'amore di Dio, compassionevole misericordioso che, come per incanto, ti fa udire parole nuove e di queste parole trasforma, con queste parole trasforma la vita. E a tua volta sei capace anche tu, ecco, di fare, di dire queste parole che possono essere esaltanti, possono essere belle, portatrici di gioia, di speranza, di fiducia per tutti coloro che ti incontreranno nel tuo cammino.